Inaugurato a Taranto presso il Dipartimento Ionico dell'Università Aldo Moro, il secondo semestre dei corsi di laurea in giurisprudenza e scienze giuridiche, un'occasione per parlare agli studenti, ha detto il professor Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Ionico, che ha aperto i lavori rivolgendosi proprio a loro, gli studenti. Attraverso di voi, attraverso i vostri successi, riusciremo a fare grande questa città. Vogliamo parlare con i nostri studenti, che è anche un'occasione per parlare con i studenti delle scuole, e soprattutto per tirare un po' le somme di quella che è l'esperienza legata a un approccio particolare, quello del nostro Dipartimento, che è interdisciplinare, si basa sulla contaminazione del sapere e quindi è un modo di vedere differente. Ha preso parte alla cerimonia anche il questore di Taranto, Massimo Gambino, che ha invitato gli studenti che intraprendono un percorso di studi giuridici a prestare attenzione al proprio territorio e arrestarci, affinché le loro professionalità e capacità possano qui svilupparsi. Noi con l'Università abbiamo un progetto che a breve sarà un reso pubblico, in cui prevediamo anche dei nostri poliziotti e dipendenti che seguiranno dei corsi benifici.